Ciao ragazzi, ben ritrovati, Real Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi, viaggiamo sulle 7 vittorie consecutive in prima divisione, l'ultima, quella che avete visto ieri, la stracittadina del derby di Milano con Dominio Teinerazzurri, avversario che ha abbandonato al sessantesimo, prima di fiendarci sull'avversario di oggi, come al solito vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti, prima divisione top 600 e questo è il primo avversario della giornata di oggi, vediamo, prima lo so di forma dei nostri ragazzi con Adeghiano in formissimo insieme a Ciala che è in stato A, quindi molto spesso, Maicon addirittura in buona forma, non vedo l'ora di prenderlo in forma verde scuro e qui devo rinunciare a Turam, domanda, che Turam a questo punto Turam arriverebbe tipo a 90 in finalizzazione, con 97 in velocità al posto di Lautaro eh, bella domanda qui, ma guardate questo Lautaro, come faccio a rinunciare a questo Lautaro ragazzi? non me ne voglio Turam mi tengo Lautaro a sto giro centrocampo, Miki, meglio di Frattesi e per il resto direi che ci siamo ho dimenticato di mettere come al solito i giocatori in attacco con Pavard quasi quasi metto solo Pavard quanto sarà lui il mio target mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi anche Magnana col booster mamma mia ragazzi che squadra è ha preso anche le ultime Stoichkov e Koller tutti col booster tranne Van Dijk che comunque è pacchetto Liverpool non è un giocatore standard mamma mia senza parole senza parole che squadra Ribéry ragazzi Ribéry è il mio problema io dovrei mettere le marcature sulle ali ma la verità è che non so se ce le metterò proviamo a metterle ho paura per Ribéry che resterà da solo quindi mettiamo la una su Beckham l'altra su Nedved più che altro per fermare le ripartenze 3-5-2 molto 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 interessante qui con CLS e CLD mamma mia ragazzi che squadra di booster tutti sopra al 100 parte col ah ecco perché c'era con le ali che giustamente c'ha Koller con Koller con il mamma mia qui subito Koller è fermato dicevo con il colpo di testa incredibile Devere è bravissimo poi spaglia questo rilancio è un peccato Maicon è attento e spazza c'è Adriano che appoggia a Miki poi Lautaro che serve proprio il brasiliano sulla sinistra non riesce però c'è ancora il colosso che ha spazio guadagna il fondo il cross al centro c'è Ciala poi sulla respinta Miki che brutto tiro un po' troppo fruttoloso qui l'Armeno avrebbe potuto controllare e cercare un tiro migliore tirato di prima col sinistro che non è il suo piede e si è visto primo squillo dell'Inter e arriva al sesto minuto valla per Koller penso che è impossibile anche non vale la pena manco provarci poi il colosso che recupera il lancio a cercare Adriano che di testa riesce a servire Ciala poi Miki recupera il pallone può andare sulla destra l'Armeno cercavo in realtà la rimessa laterale non ci sono riuscito a prenderla poi Maicon il numero del brasiliano guadagna il fondo il cross al centro per l'autore rovesciata la palla che resta lì è spazzata poi ancora da Koller che ovviamente non ho capito qui con Stoichkov attenzione mamma mia Koller mi sembra veramente un un tronco ecco mi veniva la parola diciamo che se non ci vai di cross su è dura vedete che vede lo scatto di Di Marco forse scelta non delle migliori perché l'Inter praticamente getta via il pallone eccolo qui il cross per fortuna è troppo su Giulione poi Giulione che vede l'autaro prova a servirlo subito ciala per un pizzico di dato quindi non ha visto quindi non dobbiamo farlo crossare ragazzi infatti non lo facciamo crossare bravissimo Bastoni riparte l'Inter barella che va da Lautaro anticipato in qualche modo purtroppo stoicco col tiro al giro c'è Giulione senza troppi problemi qui e lancia per sulla destra per Maicon un po' di campo il brasiliano può scendere il colosso rincorso da Ribery ma Maicon è velocissimo mamma mia ragazzi che bello sembra imbrogliare andando quello poi Adriano sulla sinistra il cross al centro per Lautaro non è dei migliori mamma mia barella ciala a giro deviata non ci credo non ci credo davvero ragazzi non è finita c'è sempre l'Inter qui proprio per barella guadagna il fondo il cross al centro l'altro lato Adriano come ha fatto a metterla così alta incredibile l'Inter vicinissimo al vantaggio palla salvata prima sulla linea e poi Adriano che si divora questa palla poi Maicon che riesce addirittura a disturbare Coller mamma mia Douglas Maicon con questo intervento meraviglioso lanciato di Marco sulla sinistra si fa vedere Lautaro in aria per Ciala qui Van Dek capisce tutto prima mamma mia Ciala troppo lento qui troppo troppo lento attenzione a Stoichkov cross ancora qui a questo punto lui sta provando a sfruttare Coller non riesce però a mettere un cross buono e qui mamma mia ragazzi questo è difficile perché se va su Coller mi spiegate poi che succede come si fa mamma mia Murato qui praticamente è impossibile fermare la sponda di Coller poi Lautaro che addirittura si gira e tira sembra un po' esagerato mentre che aspetta Giuliani che allarga per Di Marco tutto chiuso poi bastone di nuovo per Di Marco riesce a tenere in qualche modo bravissimo di Marco si libera dall'avversario il cross al centro Lautaro qui sembra quasi non abbia saltato peccato bravissimo Barella ancora recupero di questo pallone attacca l'Inter con Lautaro ancora per Di Marco il cross al centro è buono Adriano palo il cross di Di Marco è perfetto teso al punto giusto l'incornata di Adriano che non è incornata è più una frustata girando palla sul panno Inter sfortunata qui con Coller e qua il disturbo funziona però Adriano col pallone ancora da Maicon provato in aria dovrebbe essere il calcio d'angolo Maicon che voleva servire i micchi che si era proposto bene si era fatto vedere qui basta semplicemente mettere e Coller come marcatore ancora cercare Pavard invece si va addirittura da Lautaro ma la che resta lì c'è Pavard va a tenere viva mamma mia ragazzi che brutto errore poi l'Inter se la cava con Chala in aria per il tacco di di Marco mamma mia ragazzi si è salvato il nostro avversario veramente per un pelo poi Maicon a recuperare in aria per Chala no Clu ancora in aria mamma mia ragazzi qui il nostro avversario si è salvato incredibilmente mamma mia dominio dell'Inter in questo caso Marsaro che non è riuscito a sfruttare con le palle alte Coller poi Barella che vede Di Marco che parte sulla sinistra lo stop è un po' molto molto lento bravissimo ce l'ha recupero ci ha provato Rautaro ma volevo fare il tiro speciale non mi è venuto in ogni caso l'esito è positivo perché guadagniamo un calcio d'angolo sempre su Pavar eccola qui contro Nedved ci siamo portati dietro no Beckham buona la palla di Pavar forse non troppo buona visto che si spegne fra le braccia di Magnan evitare problemi qui la palla spazzata mamma mia Maicon ha recuperato il pallone può andare è fuori gioco ho caricato ci ho messo un po' troppo per caricare qui il passaggio con Maicon e nel frattempo l'autore è fin di fuori gioco non era mai idea però la spazzata sempre a cercare Coller è giusto mamma mia qui meno male che ce l'anticipo tiro forse ha provato un mezzo tiro a giro qui ma non è andata come sperava peccato per questa palla che non passa attenzione centralmente con bravissimo Ciala poi di Marco a cercare l'autore il passaggio però è impreciso bravissima barella qui mentre lui cercava il cross con Beckham di nuovo il cross al centro sempre a cercare Coller molto lento ma direi che ha fatto benissimo ha fatto quello che poteva Coller lì poi l'erroraccio quasi dell'Inter c'è Ciala che scende provato centralmente per Adriano che non riesce ad anticipare bravo Barella a recuperare questo pallone può andare l'Inter con Barella che scende palla al piede passo dal centro e rispinto c'è ancora Ciala cross al centro la palla spazzata c'è ancora Di Marco con il sinistro ancora murato palla che resta ancora pericolosa dai Barega è tua molto bene riparte l'Inter Di Marco ancora la Barella che sta correndo veramente incredibilmente tantissimo Miki Miki attenzione entra in aria il fondo al centro Adriano è solo Adriano è solo a settantunesimo la sblocca che grande azione il tocco di Ciala per Miki è perfetto proprio per permettere a Miki di arrivare in anticipo l'Inter che passa in vantaggio in vantaggio ancora cosa al centro mamma mia Di Marco qui la rischia c'è ancora l'Inter ancora Barella che vede lo scatto di Lautaro fermato da un grande Van Dek bravissimo Miki anche in fase difensiva cercare ad esterno Adriano che vada Lautaro di nuovo Adriano di prima cercare l'argentino scivolato attenzione mamma mia si salva si salva qui l'avversario attenzione con Stoichkov mamma mia Pavara arriva Giulione con i pugni a evitare problemi non è finita attenzione al cross Coller che si divora qui un'occasione che non doveva divorarsi considerando che ha 95 probabilmente in colpo di testa ragazzi non mi puoi sbagliare ho l'occasione Coller l'Inter che ancora ce la fa direi di Marco solo un po' stanchino ma io Carlo Sacusto non ce lo metto in questa partita l'attacco sta benissimo quindi io per adesso non cambio nulla l'avversario che lasciato così almeno per adesso sembra sia tutto in regola senza nessun cambio presso Adriano che la sorte il destino è crudele è ironico Adriano di testa che va a segnare quando il nostro avversario sta giocando con dei crossatori incredibili tra Nedved e Beckham con Coller penso il giocatore più forte finché non inizieranno Peter Crouch immagino sarà Coller il giocatore più forte a livello aereo e nonostante lui stia giocando con Coller e l'Inter che è passato in vantaggio con un gol di testa cross di Mkhitaryan al bacio dell'Inter l'avversario che sta correndo ai ripari a questo punto è qui è qui mi sa che entra la la entra l'artiglieria pesante con Messi chissà se non l'ha fatto giocare per provare Stolchkov o se stava magari in forma bassa o Stolchkov stava semplicemente meglio e parte l'Inter bravo Mycon a cercare Mkhitaryan in aria per mamma mia qui se ci arriva l'Inter ci si si diverte ancora per Ciala non riesce a passare questo pallone Cialanoglu Zico addirittura è entrato che prova a prendere la barella Candela contro Mycon la vince Mycon il lancio in avanti è per Lautaro che bravissimo Ciala un recupero fondamentale è qui la devia quel tanto che basta Lautaro all'ottantanovesimo la chiude la tocca Ciala non volendo e aggiusta il passaggio di Adriano che non era preciso è qui molto fortunati noi Nerazzorri ancora per Coller mentre recupera e va in avanti con il contropiede di Cialanoglu che poi temporeggia un po' troppo attenzione a Zico attenzione a Beckham qui il tempo per il cross c'è Coller no ragazzi a sto punto io se fossi in lui non lo giocherei più Coller è la seconda occasione colpo di testa cross preciso non puoi non arrivarci non puoi sbagliare qui Pavard si prende un po' di campo poi l'alza a cercare Michi ma non c'è più tempo è 2-0 Inter la sblocca Adriano al settantonesimo MVP della partita anche grazie all'assist aggiustato da Ciala per Lautaro ed è 2-0 Inter gran partita squadra di super booster abbiamo visto contro questo Coller che però non si è fatto valere ragazzi è tutto per l'episodio di oggi 8 vittorie di fila 9 vittorie su 10 direi un ottimo score per questo inizio di divisione 1 tempo fino a dicembre quindi c'è tantissimo tempo ancora fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio per aver guardato ci vediamo alla prossima